Ed eccoci qua, ed eccoci qua, eccoci qua. Qualche giorno fa è uscito il video delle 10 pod e dei 10 liquidi che ho utilizzato maggiormente in quest'estate 2024, ma vediamo anche gli atomizzatori rigenerabili che ho utilizzato in questa estate 2024. Vi mostro principalmente 4 atomizzatori che sono quelli che poi mi sono portato proprio anche durante le vacanze estive, anche durante le due settimane classiche ad agosto e quindi solo quei 4 atomizzatori mi sono portato perché non è che potevo portarmi via il mondo. Tant'è che questi 4 atomizzatori li ho utilizzati poi anche con 4 liquidi che già però abbiamo visto nello scorso video dei liquidi e delle pod. Non è che potevo portarmi via ragazzi una valigia solo di liquidi, pod, atomizzatori, cotone, cioè dai eh, ok? Cioè non si può, cioè mi devo portare un trolley solo per tutta sta roba. Allora ho cercato di ottimizzare, ottimizzare e tra l'altro vi farò vedere anche un'altra cosa che ho ottimizzato. Perché sarebbe facile magari per me adesso mostrarvi le super box che ho messo insieme con questi atomizzatori per farveli vedere belli, accattivanti, scintillanti, sfavillanti, invoglianti, ma non è questo il motivo di questo video. Anzi, è esattamente il contrario. Sono in vacanza, esco fuori a cena, esco fuori a fare l'aperitivo, magari mi faccio passeggiata in spiaggia, la sera, di giorno, la mattina. Ti pare che mi porto la mia box preferita? Assolutamente no. Quindi vi farò vedere questi atomizzatori con delle box base, 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 easy, easy, easy. Partiamo con il primo, partiamo con il primo, anzi partiamo con la prima copiata, così vi faccio vedere direttamente anche il liquido che poi ci ho utilizzato. Intanto vi dico che la box è quella di Aspire, è la Huracan EX, che vi avevo mostrato già nell'altro video. Ma siccome dovevo ottimizzare gli spazi, ho deciso che questa box, oltre che usarla con l'atomizzatore da polmone, la sera, se dovevo uscire, ci montavo anche l'atomizzatore da guancia, così prendevo due piccioni con una fava. Bishop 2, con il gold tobacco di King Liquid. E questa è stata un'accoppiata che mi ha all'inizio stupito, ma poi ci ho fatto sempre più la bocca, sempre più la bocca, finché ho detto, cazzo non è male, non è male. Perché qui c'è all'interno un tabacco di sintesi con una parte dolce e vanigliata, biscottata, quindi sentito del fragrante, dell'affumicato, del tostato. E nel Bishop 2, devo dire che tutte queste note vengono amalgamate molto molto bene. Tant'è che l'atomizzatore tira anche un filo, ma proprio un filo, al secchino. Quindi quella vaniglia me la taglia un pochino, e quindi devo dire che c'è stato alla grandissima, alla grandissima. Atomizzatore rigenerabile Bishop 2, io l'ho utilizzato con un tabacco e vaniglia classico. Questo è brutto da vedere, la box della Drag 5 con il bike a V10 e il London di tabaccheria. E ragazzi, lo so, è bruttina da vedere, però, qui però ragazzi serviva l'utile, ok? Mi serviva una box doppia batteria. Se devo star fuori tutta un'intera giornata, magari, non so, la gita Mirabilandia, tutto il giorno fuori, dalla mattina fino alla notte, avevo bisogno di una doppia batteria. Quindi mi sono portato questo con l'atomizzatore, il liquido. Ho caricato solo un paio di volte durante la giornata, ma le due batterie mi hanno coperto tranquillamente tutta, tutta la giornata. E quindi devo dire che, anche in questo caso, l'accoppiata mi ha soddisfatto in pieno. Anche in questo caso ho usato il London, che mi ero già portato dietro per le pod. Ripeto, dovevo comunque unire l'utile al dilettevole. Nel bike a V10 il London viene fuori davvero bene. Lo rende quasi cremoso il liquido. Si sentono le note latacchiose, si sente l'affumicatura, ma poi rimane una base quasi cremosa. Buona, semidolciastra, perché non tira troppo al dolce. A parte che nel bike a V10, ragazzi, ci potete mettere veramente qualsiasi cosa. Anche la base neutra viene fuori. Buona, fidatevi. Anche la base neutra. Quindi il V10 con il London. Tanta, tanta, tanta roba. La combo, ok, magari può lasciare il tempo che trovo, però avevo bisogno di una doppia batteria. Kentucky Heritage è il mio immancabile fevvino, ok? Fevvino su una box che voi direte, Mickey, ma cos'è quella box lì? Questa è una Coolfire Z60 che ho usato talmente tanto che era venuta via la vernice e quindi l'ho carteggiata. Oh, ragazzi, la box funziona ancora talmente bene che mi scocciavo a buttarla via. Cioè, era venuto via tutta la vernice a fuori di usarla. Io ho dato una mano di carteggiata, ho tirato via tutta la vernice, è venuto questo stile molto industrial. Mi piace ed è una di quelle box veramente da battaglia, anzi, più battaglia di così, veramente, ragazzi, non esiste. Più battaglia di questa non esiste, più personalizzata di questa non esiste. Quindi il mio amato fevvino con il Kentucky. E qui volevo sentire l'oscuro. Qui erano quei momenti del dopo cena, del gelato, della passeggiata, dell'amaro. Cioè, qui erano quei momenti in cui avevo bisogno poi della parte fumosa, ok, della parte secca, della parte affumicata. Cioè, avevo bisogno di quel sentore lì. Anche perché poi arrivavo magari da tutta la giornata con le solite poddine, liquidini, fruttatini e quant'altro. Arrivavo comunque a sera che avevo bisogno di quel sentore affumicato. Black Style, ragazzi, eh? Cigarette One, naturalmente di angolo della guancia. La box è la boxer di casa Spire. E sopra ci ho montato un V3 Mini Kaifun. Kaifun V3 Mini. Tanta roba col tabacco scuro, col tabacco dark. Il Latakia qua dentro, ragazzi, sale veramente tanto. E voi in bocca avete veramente una percezione di pipa. Il Kaifun V3 Mini era tantissimo tempo che non lo utilizzavo. Ce l'avevo forse da un paio d'anni nel cassetto, che proprio manco lo tiravo fuori. Visto la box è nera, mi era venuto in mente che avevo il Kaifun V3 Mini nero. E quindi ho detto, lo tiro fuori. Lo voglio tirar fuori, lo voglio riprovare. E quindi me lo sono portato dietro. Volevo un altro atomizzatore più stretto, ok? Con una campana più piccola, che scaldasse maggiormente, esattamente poi come il febbino. Per tirar fuori poi la parte tabaccosa dark dei vari liquidi che poi avevo. Poi io già sapevo che comunque ci avrei messo dentro nel febbino un Kentucky. E nel V3 Mini ci avrei messo comunque una mistura a base di Latakia. Quindi a me è piaciuto già l'idea ancora prima di utilizzarli. E niente ragazzi, questo è tutto. A dimostrazione che non è solo pod e fruttatini. Ma anche atomizzatori rigenerabili e tabaccosi. Ok, abbiamo veramente tutto nel menu. Si parla a 360 gradi di tutto. Spero che anche in questo caso il video vi abbia potuto dare magari qualche spunto. Vi abbia potuto incuriosire. E magari chissà, provare un'accoppiata se l'avete anche voi a casa. E farmi poi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Questo è tutto ragazzi. Noi per questo genere di video, cioè che cosa utilizzato nell'estate maggiormente. Sia delle pod che i liquidi che anche dei rigenerabili. Perché adesso diventa la tradizione anche dirvi quali sono gli atomizzatori rigenerabili che ho utilizzato maggiormente nell'estate. Ci vediamo l'anno prossimo, ok? Un video all'anno di sta roba qua. Giuro che non vi frantumo le palle più di tanto. Un video all'anno è più che sufficiente. Noi invece ci vediamo presto per un nuovo video. E io come al solito vi auguro una buona giornata. E una buona vita a tutti!